I giardini in Francia parlano anche Aquinate con le suggestioni cosmatesche. Siamo a Chaumont-Silloir con il Festival Internazionale dei Giardini. Qui l'architetto Aquinate, Vincenzo Tommassi, con il suo team, ha realizzato il Giardino Ideale. Il concorso internazionale è bandito dal comune di Chaumont-Silloir, un concorso in cui prevede la realizzazione di 24 giardini tematici. Il titolo del progetto è Suggestioni Cosmatesche. Suggestioni cosmatesche perché ci siamo ispirati alle pavimentazioni cosmatesche, queste pavimentazioni realizzate con tessere geometriche e poligrome. Da questo disegno abbiamo tirato fuori l'idea progettuale. Tutto quello che è il cromatismo delle pavimentazioni l'abbiamo trasferito con la vegetazione. Quindi è stata fatta una selezione di piante erbace perenni che avessero un certo dinamismo durante la stagione. Nato nel 1992 il festival, ospita ogni anno paesaggisti e progettisti provenienti da tutto il mondo. Un grande orgoglio per l'architetto Tommassi. Grande soddisfazione perché intanto siamo andati in prima persona a realizzare il giardino perché lo prevedeva il bando. Io insieme ai colleghi paesaggisti Rosa Montebovi e Vincenzo Nardi siamo stati circa 20 giorni in sede per seguire la direzione dei lavori. Un risultato inaspettato. Il progetto Aquinate è stato selezionato insieme ad altre 24 installazioni ideati da team di progettisti internazionali. Partecipiamo ma senza alcun impegno perché è un concorso dove partecipano studi di un certo calibro. Bene, c'è stata quindi la sorpresa dove siamo stati selezionati e accertati requisiti ci hanno selezionato definitivamente per realizzare il nostro spazio temporaneo.